E' sbagliare il numero Ed eccoci al nuovo gameplay di Fallout New Vegas Oggi andiamo a caccia della regina delle formiche Di cosa? Di fuoco Guarda che bello è fatto Ma sono grossi quelle lì Sì Sicuro quelli? Certamente Sì No, i dati rifiuti E' rigenzato qui sotto Scusa andaci un po' lì Eh ma se no viene E' un po' lì No ma l'ho conosciuto se io Spaccava la sua propria di terra Andava a fare Cambiarlo? E' troppo spazio E' troppo spazio E' troppo spazio Ma questo Spazio Il signor Ed ora Sento riunito Il signor Alves E' col cuo E' col cuo E' col cuo Porca puttana La casa di buoni futuro Sì Ma che Guarda Ma che vieni a vedere qui Si troppo bello E' proprio per due Aspetta Controllare le direzioni E' quella Ok E' altro qualcosa? No Questa qui per quando c'era nata io Era morta E' anche Era già morta Ah e' quella che c'era anche di fuori? Merda Oh E' quella che c'era anche di fuori? Figlio se è grossa E' questa palla regina Con carne Quindi E' di che testa questa qua per essere una furnita? Non so Sono già arrivati Io non riesco a tenermi questo qua Perché Oppure che me lo matta già subito Era per tanto rivivere E' una morta che sta forte Fida il mitico archericieno Che c'è delle enclave Non è come Il Fallout 3 che muovi e non puoi più rividerli A meno che non lo ricarico 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 Allora Aspetta Scegliamo l'arma Altacul Fumina Unico critico No Questa non funziona E' il punto interno E poi veniremo subito Magari un pugno ballistico L'evolver Bello Questa non sto con una nuova C'è troppo Questa ti toglie Tanto Fucile l'asera trinaggio Fa vedere Aspetta Aspetta Ho un'altra idea Scegliamo l'arma da loro O no Vediamo cosa C'è magari Gli ho messo qualcosa di questo Non mi ricordo cosa abbiamo messo Gli lanciano granate Canelotanti 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 Cos'è che è il prototipo Si va Il canelotanti Non è quello unico però Cazzo se toglie poco qua D'anno 12 Si ma Ti ricacolo anche una cosa Eh La L'espressione Anche che L'incerti l'abbiamo comunicato Però secondo te C'è L'espressione è tutta un'altra cosa Ma cazzo la Un fallo 3 ce l'ho lì C'è guarda quanto c'è Ha tipo Un fallo 3 Non c'è di Distressione eh Si capito ma Figa Un fallo 3 ce l'ho Non so Guarda E' quella Carina eh Puttana ma E' più grossa dello scorpionè No E' quella E' morta Guarda questo qua Che caffanculo sei Me l'aspettavo Me l'aspettavo che le stesse No Guarda Ma sei grossa Sei fuocato Quella Si che è E' una bormica Un'altra 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 in casa No Puttana ma sei Eh non me l'aspettavo così grossa Eh non so ma Ma quale è la cosa più grossa di Si fa la un mio vela Ed è che qui grossa se fa la un mio vela E non so che Ma da Cos'è parte Però Superano Un nuovo store Non dovete vedere Puttana Puttana E' bello che si muoveva la parte di un bel Ma da te quante gruppi di uova E' un mio amico di uova Abitante E' un piaccia Chi non lo vorrebbe Io Sei un bastardo Da fu non c'è un po' un cazzo non c'è un po' un cazzo non c'è un'arma unica non c'è un'arma unica andiamo qua a questo gameplay allora saluta a quelli ciao a tutti